Teniamo conto che lì c'è un RSA, un poliambulatorio, quindi pensate cosa significava per chi ci si recava avere... Siamo a Via Cardinal Pacca, la strada che unisce Via di San Pio V all'Aurelia Antica e questo è uno dei black point, uno dei punti ad altissima incidentalità. Pensate che negli ultimi dieci anni ci sono stati 33 incidenti, tutti conferiti e con un morto. È il secondo dei 170 black point che abbiamo individuato, che mettiamo in sicurezza, i lavori sono appena conclusi e come vedete hanno comportato l'allargamento molto significativo dei marciapiedi su questo lato, dove ce n'era uno strettissimo, e sull'altro lato. Le macchine parcheggiavano ovunque, quindi i pedoni erano costretti a una sorta di slalom. Adesso abbiamo messo le barriere parapedonali, allargato il marciapiede e rimosso le barriere architettoniche. Questi interventi possono essere considerati minori, ma invece sono importantissimi. Pensate che quello che abbiamo già concluso sulla Nomentana ha ridotto già del 40% il tasso di incidenti. Andiamo avanti per rendere le strade di Roma più sicure e tutti i cittadini devono rispettare le regole del codice della strada.